bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e anche oggi tutte le news delle ultime 24 ore di fortnite le trovate racchiuse in questi pochi minuti ovviamente ragazzi si fa come sempre un po fatica ve l'ho già detto anche ieri a trovare roba davvero davvero interessante ma qualcosa c'è innanzitutto abbiamo sbagliato di 24 ore con l'uscita del pack marvel oggi è disponibile noi ci dimentichiamo sempre che c'è il fuso orario quindi quando in america dicono domani per noi in realtà è dopo domani poi tutto un casino comunque oggi è disponibile vedremo anche nuove informazioni per quanto riguarda però la possibilità di vedere in game i veicoli con le armi montate e qualche leaks interessante prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news allora oggi ributto dentro una cosa che mi avete chiesto in tanti vediamo se siete felici la domandina la facciamo la facciamo la domandina domandina di oggi molto easy molto free preferite il tac a qualsiasi rarità ovviamente oppure il nuovo fucile del drago secondo voi ragazzi qual è il più forte ditemelo qua sotto nei commenti e ditemi anche se siete contenti che ritornino le domandine ma andiamo a parlare invece del primo argomento di oggi che è quello che vi avevo anticipato ieri la possibilità di avere dei veicoli con sopra montati delle armi montate delle torrette lo abbiamo scoperto trovando queste stringhe di codice fort dagwood vehicle apple vehicle mod mounted gun e sotto mounted gun data giustamente la domanda che ci facciamo è questi veicoli saranno presenti nelle partite in pubblica faranno parte delle modalità creative saranno di una ltm dedicata molti dicono che faranno parte di una ltm dedicata ma ci sono delle informazioni interessanti che le possiamo leggere qui perché dice io non penso che andranno in una in una modalità creativa perché la mod nel nome delle macchine dice semplicemente veicoli modificati il che potrebbe anche far pensare che si torni a qualcosa del genere la parola modificati era anche presente quando abbiamo dovuto personalizzare l'ombrello nelle season precedenti il custom ombrello ok custom modification è la stessa cosa quindi potremmo magari vedere nella prossima season o in un futuro recente la possibilità di moddare i nostri veicoli quindi ogni volta che prendiamo un veicolo bam automaticamente gli viene messa la vernice che abbiamo scelto gli possiamo mettere anche una wrap quindi una copertura come già facciamo per ad esempio le barche o gli elicotteri quando c'erano cambiare il colore delle ruote e via dicendo ragazzi la torretta invece dovrebbe rimanere montata di default una cosa davvero molto interessante molto curiosa che darebbe diciamo una spinta in più al divertimento su fortnite e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché vi ricordo che sono disponibili anche da ieri le wakanda challenge per ottenere questa emote quindi il wakanda salute mi sembra che si chiama quindi il saluto wakanda è ovviamente riguardante la marvel come al solito lo vediamo e lo riconosciamo dal background delle emote che ha lo stesso identico colore al completamento della di tutte le sfide oltre ad ottenere le emote ci portiamo a casa ben 10.000 punti esperienza che non fanno assolutamente schifo vi ricordo ragazzi che celebramo la le legacy le sfide di wad del king wakanda con la wakandan salute emote saranno disponibili disponibili dal 21 dicembre quindi da ieri fino al 12 gennaio quindi c'è davvero tantissimo tempo per completare queste sfide e per portarsi a casa un emote totalmente gratis nell'armadietto andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché voglio ricordarvi invece parlando sempre di challenge che quella di ieri ci richiedeva di distruggere le statue dello schiaccianoci una al mappa la mappa che vi sto facendo vedere vi indica la posizione di tutte le statue se per caso ancora non aveste fatto la challenge mentre quella che arriverà oggi ci darà come regalo l'adesivo snowblaster e per ottenerlo è davvero semplicissimo dovremmo volare se non ricordo male per 5.000 metri quindi per 5 chilometri a bordo di uno di un x4 wing di un aeroplano quindi ragazzi sapete ovviamente dove sono gli avamposti scendete pigliatevelo girate nella mappa finché non otterrete la notifica che avete completato la sfida e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché questa è un'altra cosa davvero super interessante ed è praticamente quasi confermata riguarda gli npc la grande introduzione di questa season gli npc ovviamente mi riferisco ai personaggi che si trovano in giro per la mappa con i quali possiamo interagire alcuni danno i potenziamenti delle armi alcuni danno semplicemente delle quest per ottenere i gold altri recuperano la salute e via dicendo ma ragazzi sembrerebbe che tra poco e addirittura si parla di questa season sarà possibile ottenere dagli npc quindi dei personaggi un loot che si trova dentro il drop per un totale di 600 gold quindi pagando la somma di 600 lingotti qualche npc ci darà un drop che noi potremmo aprire tranquillamente è praticamente ripeto confermata perché la fonte è super attendibile e devo dire che sono molto curioso di vedere come sarà in game e di capire se stravolgerà per caso il gameplay oppure semplicemente sarà un'aggiunta per farci spendere un po di cash arriviamo ragazzi ovviamente all'ultimo argomento di oggi ed eccolo qua ve ne riparlo per l'ultima volta del bundle di marvel 3 le skin che trovate nel bundle disponibile oggi nel negozio capitan marvel black panther e task master con relativi backpack relativi picconi e anche una scia mi sembra adesso non me lo ricordo con precisione comunque i backpack sono ovviamente il numero 2 il numero 3 e il numero 4 i picconi sono il primo che è un doppio piccone il e la terza ultima immagine la penultima mentre troviamo anche come backpack lo scudo quindi in realtà forse sono 4 boh non me lo ricordo lo vedremo comunque oggi ragazzi ed è l'ultimo omaggio ufficiale a marvel sappiamo che la collaborazione con marvel è comunque continuata questa immagine intanto vi fa capire un pochettino meglio quello che si aspetta ma non saranno più ovviamente così intense come lo sono state nella season precedente insomma ragazzi io anche per oggi tutte le news ve le ho dette vi ringrazio tanto per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel pollicione in su scrivete un commentino dai aiutatemi a mandare questo video nei consigliati noi ci vediamo alle 8 in live su twitch ciao